Quindi, il giardino dei peccatori, che ora che ci penso, ancora non ho ben capito la cosa dei peccatori a cosa si riferisce, però magari ci sarà più chiaro questo discorso più avanti, il paradosso del paradigma, o comunque la spirale delle contraddizioni. Allora, quinto film, per ora io come vi ho già detto i primi quattro non mi hanno stupito in maniera incredibile, da quello che vediamo dalla copertina di questo film, credo che il cattivo che è stato introdotto alla fine del quarto film sarà presente in questo quinto film. Vediamo anche la nostra protagonista detta Shiki, che mi stavo già scordando i nomi, Shiki che è imprigionata in stile Saber, non proprio Saber, ma comunque sì, tipo probabilmente viene fatta prigioniera, mi viene da pensare, o viene, non so, forse la prosciugano, gli fanno qualche rituale strano. E qua si vede al centro il protagonista, forse, che corre per andare a salvarla, non lo so, però comunque dura due ore, è per ora il film che dura di più tra tutti quelli che abbiamo visto e dovrebbe essere bello, quindi stiamo a vedere. E facciamo un breve recapino di quello che abbiamo visto fino a molti, di quella che è la storia. Allora, da quello che ho capito io, la storia è semplicemente che il mago Aramia, o come si chiamava, il cattivo di questo film, ha creato questo condominio, questo palazzo, con all'interno varie persone raccattate, non ho capito in base a cosa le ha scelte, forse ha scelto persone che avevano una vita difficile, delle situazioni complicate, o che erano, non lo so, tendenti a determinate cose, oppure le ha prese a caso, potrebbe pure averle prese tutte a caso, le ha rinchiuse in questo condominio, dove nell'arco di poco tempo sono tutte morte, perché questo condominio si ha, immagino, per una questione di come era stato creato, della magia di questo mago, sia per la questione dei colori, che facevano impazzire le persone, il tipo di architettura, questa cosa della spirale, tutto quanto, comunque portavano le persone o a impazzire, o a diventare violente, ma comunque le facevano morire, e ha fatto in modo che si creasse un loop all'interno di questo palazzo, dove le persone rivivevano l'ultimo giorno della loro esistenza, della loro vita. Questo per fare in modo che, prima o poi, questo loop infinito venisse rotto da parte di qualcuno di queste, di queste bambole, di queste copie, perché, se vi ricordate, lui ha anche preso i cervelli di ogni persona, li ha messi sotto il condominio, vorrei riprendere la scena, dove lo fanno vedere, fanno vedere tutti i cervelli, eccolo qua, qua si vedono tutti i cervelli delle persone che, dopo che sono morte, lui ha preso, ha trasferito, in qualche modo, la coscienza di queste persone in, ha trasferito comunque la coscienza di queste persone in delle bambole, in degli zombie, che sono quelli che si vedono, eccole qua, tutti i cervelli, che sono quelli che si vedono all'inizio del film, quando combatte Shiki contro questi zombie che si vedono qua, e quindi era un esperimento, era tutto un esperimento per vedere se qualcuno di queste persone respawnate, di questi zombie, con le coscienze dei precedenti proprietari, potesse interrompere il loop di morte, cioè l'ultimo giorno che si ripeteva all'infinito, e alla fine una persona c'è stata, ovvero il nostro buon Emi Ashiro, anche noto come, vabbè, lui, capelli rossi, che è riuscito a rompere il loop, a uscire da questo condominio, e poi ha incontrato Shiki sotto l'ordine del mago, perché da quello che ha detto il mago nel finale, a lui gli era stato dato il compito di, non il compito, gli era stata innestata inconsciamente questa roba che lui amava, che lui amava Shiki, e questo l'ha fatto per fare in modo che Shiki venisse portata in questo palazzo, perché l'obiettivo del mago era quello di usarla per arrivare al vortice della radice, che non ci hanno spiegato chiaramente cos'è sto vortice della radice, però a quanto pare è una sorta di, forse tipo, l'origine del mondo, cioè un, tipo, non saprei bene come poterlo spiegare, una sorta di, una sorta di cosa attraverso il quale lui avrebbe potuto, tipo, diventare una sorta di dio, non so come dirvela, perché da quanto ho capito l'apertura di questo vortice, l'arrivare di questo vortice della radice, che è un concetto che loro manco sanno se è vero, cioè i maghi dicono che questa cosa esiste da molto tempo, ma nessuno sa se esiste veramente o se è solamente un concetto, però il raggiungimento di questo vortice avrebbe portato, da quanto ho capito, alla morte, probabile di tutti gli umani, sarebbero tipo morti tutti, e l'obiettivo di questo tizio era quello di poter osservare le morti di tutte le persone, sia di quelle presenti che di quelle passate, perché in questo modo, non lo so, avrebbe potuto raggiungere la felicità, non ho capito bene perché, in realtà sul cattivo di questo film non è che ci spiegano troppo, se non che era un mago amico, compagno di classe della tizia dai capelli rossi, che insomma ha le marionette, e ci hanno fatto vedere qualcosina del suo passato, ci hanno fatto vedere qualche scena, adesso vorrei riprenderla ma è difficile beccarla, ci hanno fatto vedere le scene in cui lui stava in mezzo al... eccolo qua, ci hanno fatto vedere la scena in cui lui stava in mezzo al... in questa landa desolata con tutti i cadaveri, tipo dopo una battaglia, e si dispiaceva perché non era riuscito a salvare molte persone, quindi non so bene come interpretarvela questa cosa, sembra che in passato ha avuto qualche vicissitudine collegata alla morte, cioè... non lo so, lui forse vede la morte... cioè prova rimorso nei confronti di qualcuno che non è riuscito a salvare, o di cui non è riuscito a vedere la morte, perché in questo modo lui dice che le morti che... cioè le persone che muoiono da sole o senza uno scopo sono... non so, prive di scopo... e quindi lui per cercare di dare un senso alla morte anche di queste persone, dice che le vuole vedere. mo' ripeto, è complicato il suo personaggio, non so bene come... quali sono le reali motivazioni, però mi sembra una roba simile a un... a un Kotomine Kirei di Fate. Kotomine Kirei era una persona che cercava uno scopo, cercava di raggiungere... cioè era vuoto dentro, voleva qualcosa da raggiungere, che alla fine trova nel voler tormentare gli altri, nell'osservare le persone soffrire. forse lui è una cosa un po' simile, cioè non sa bene cosa vuole e spera di ottenerlo una volta che aveva raggiunto questo vortice della radice. Quindi questa è la mia ipotesi. E per il resto in realtà non c'è molto altro da dire, questo è il film, quindi il motivo per cui è successo tutto era un esperimento e adesso entriamo un po' più nel dettaglio della questione, ma prima leggo la chat. La sua verse usa concetti magici direttamente dal folklore magico e crea un mondo di magia un po' diverso dal solito. Lui ha detto che erano persone con vari problemi alle spalle. Sì, sì, quindi probabilmente lui ha raccattato varie persone problematiche, le ha messe in questa torre e poi sono tutte morte. E questo vortice gli avrebbe permesso di ottenere questa vera saggezza che cerca? Penso di sì, penso di sì. Cioè, da quello che dice nel finale, sì, lui cercava la vera saggezza, o... non lo so, sembra quasi che voleva diventare Dio lui, non ho ben capito qual è il vero scopo, cosa vuole ottenere. Voleva avere un senso dell'esistenza e del valore dell'umanità. Però lui stesso è un umano. Cioè, perché da come parla sembra quasi che non lo sia. Cioè, sembra quasi che parla dell'umanità come una cosa distaccata da sé. Tutti i maghi cercano di trovare il vortice della radice, infatti il Graal serve a questo scopo. Bello. Bello quindi anche il collegamento con il santo Graal. E... comunque, per quanto riguarda altre cose inerenti a questo film, non so se a voi vengono in mente cose che non sono state chiarite, o che non sono state dette. Il problema principale, ve lo dico io, è che purtroppo in questo film, molto spesso, a parte il tipo di narrazione, non aiuta a avere ben chiaro quello che succede. C'è questa doppia narrazione a spirale, come avete detto voi, in cui fanno vedere le cose da due punti di vista differenti. Non ho neanche capito bene quali sono questi due punti di vista, sarò sincero. Però in tutta la prima metà del film alternano varie volte la parte con il loop, con quello che succede nel presente, alcune volte vanno nel passato, cioè fanno un po' di avanti-indietro, avanti-indietro. Ci sta anche, come ha detto pure Shenvi prima, una roba alla Satoshi Kon, in cui... però dura pochissimo questa cosa, in cui Araia, questo tizio qua, il mago cattivo, diventa... cioè, si risveglia, sta facendo una cosa, poi... cioè, così si risveglia dicendo che è stato tutto un sogno. Questa cosa effettivamente me la ricordo molto bene da Perfect Blue, dove ci sta la protagonista che entra in un trip, dove per 4-5 volte non capisce se sta sognando, se sta vivendo nella realtà. Quindi sì, questa cosa di certo non aiuta a capire bene il tutto. In più, e questa è la mia critica principale al film, in più, se ci aggiungi una marea di robe, una marea di nomi e di cose non spiegate, tipo il vortice della radice, tipo il tenjiku, cioè, a un certo punto ha detto, stai cercando il tenjuku, il tenju, dentro il tenju, che cazzo è il tenju? Che cos'è? Oppure le origini, lui cita, tu hai l'origine della nullità, io ho l'origine dell'immutabilità, tu hai l'origine dell'insignificazione... cioè, purtroppo tirano fuori, e ce ne sono forse pure altre, tirano fuori alcuni concetti o alcune cose che mai sono stati detti in questi film, e non te li spiegano, non te li spiegano, quindi, purtroppo, quando ci aggiungi un tipo di narrazione strana, un po' frammentata, con delle cose non ben spiegate, cioè, non spiegate per niente, il film risulta un po' confusionario, cioè, non mi sento, anche dopo averlo visto tutto, mi sento che alcune cose me le sono perse, quindi questa è la cosa che mi dà un po' più fastidio, e non so se è un film che rivedendolo le capisci, cioè, mi sembra proprio che sono cose che sono state omesse e basta, cioè, questioni che o verranno spiegati nei prossimi film o ti attacchi al cazzo, cioè, non so quanto possono, quanto puoi capire da tutto quello che hanno detto in questo film qua, hanno prescontato che tu vada poi a documentarti sul resto, hai capito, mi dà questa impressione, esatto, e questa è la cosa che, cioè, la cosa più negativa del film, penso sia questa, però ammettilo, è il migliore tra cinque che abbiamo visto, no, no, ma infatti è proprio quello che vi stavo per dire, cioè, questo qua è in assoluto il migliore tra quelli che abbiamo visto, perché comunque l'idea di base di questa spirale, di questo palazzo, mi piace molto, il plot twist sul protagonista a me, sinceramente, mi era sembrato chiaro da metà film in poi, poco prima, cioè, da quando fanno capire la cosa di come funzionava questo esperimento e che loro erano delle marionette, degli zombie, ma soprattutto qual era l'obiettivo dell'esperimento, ovvero fare in modo che uno di queste persone rompesse il circolo, da lì ho detto ok, ma allora è lui, cioè, perché lui sembra un coglione qualunque, questo Anjo, sembra un ragazzo qualunque che per quale motivo dovrebbe essersi liberato, proprio perché è una marionetta, è una marionetta che è uscita dal loop, quindi questo è un bel plot twist, sicuramente che, cioè, ci sta, che nel finale, insomma, si è arrivato in questo modo, secondo me, un bel colpo di scena, poi a livello di qualità generale pure era fatto parecchio bene sto film, mi è sembrato anche forse meglio degli altri, per certe cose, cioè per, a livello forse di animazioni pure un po' più, un po' più fluido degli altri film, a parte questa cosa, i personaggi che hanno presentato sono interessanti, il cappellaio matto dal cappello, dal vestito rosso è morto, e sono contento di questa cosa, perché, insomma, stava un po' sul cazzo, ce l'hanno comunque presentato, ce l'hanno spiegato, ma non credo ci sia molto da dire su di lui, lei anche, ci hanno approfondito un pochino la questione sulla tizia capelli rossi, la burattinaia, che a quanto pare è OP, perché ha tipo un esercito di cloni, di marionette uguali a lei, quindi nonostante è morta nello scontro, in questo scontro qua, alla fine aveva un'altra marionetta e quindi si è riuscita a salvare, lui è un bel personaggio, non so se è morto, sembra di sì, perché ha detto che non ha dei cloni, non ha un modo per, cioè non si è duplicato, quindi a sto punto penso che potrebbe essere morto, ma per come ce l'hanno presentato e anche per il fatto che sono rimaste molte cose irrisolte, mi verrebbe da dire che forse ce lo faranno vedere di nuovo in futuro, e comunque sì, per quanto riguarda la parte che mi è piaciuta di più di questo film, come scena, vi direi il finale, il finale, cioè il finale finale, in cui fanno vedere Angio e Shiki seduti al bar, ma che prendono entrambi direzioni diverse, proprio, ecco come se fosse una cosa proprio speculata, due mondi differenti, perché ci sta pure lo stesso tizio, che vivono proprio in due mondi differenti con Angio che è andato, non lo so, nel mondo dei morti e Shiki che è rimasta, tra l'altro con qualcuno che li sta chiamando non capisco chi, cioè c'è qualcuno che fa così da lontano, non so chi può, chi può essere sinceramente, cosa può rappresentare, però sì, questa qua è la scena migliore del film. per quanto mi riguarda, nonostante, vi devo dire, Angio non è un personaggio che sono riuscito a apprezzare più di tanto, cioè non sono molto triste della sua morte, forse perché l'avevo capito fin da subito che era una, dopo poco che era una marionetta, ma anche, non lo so, per il modo in cui si era comportato, per carità, ha una vita triste, poveraccio lui, però non è un, al livello di personalità, per quello che ha fatto nel film, per come si è comportato, non, non mi dice troppo, non, non, non mi dispiace molto il fatto che sia morto, non provo particolare, cioè, non, non provo particolari emozioni verso di lui, preferisco il protagonista per dirvi, anche se pure il protagonista ci sarebbe da, come dire, aprire una parentesi su di lui, che è un personaggio anche lui che, sì, ci sta, ma non è proprio il mio preferito, mettiamola così, quindi, a livello di personaggi nuovi, vabbè, Angel è morto, lui è morto, ma mi stava sul cazzo, l'unico interessante è il cattivo, che a sto punto vi dirò, spero non sia morto, perché, non saprei cos'altro può succedere nei prossimi film se il cattivo è morto, e, e questo è quanto, questo è quanto, più che altro, dopo cinque film, mi sembra che ancora molte cose non sono state spiegate, ma non mi ricordo in totale quanti sono otto film, però credevo che verso metà, poco più di metà, dove siamo adesso, molte cose ci sarebbero state chiare, invece per ora, sì, possiamo intuire un po' di robe su come fanno ad avere i poteri le persone, su come funziona un po' il mondo in cui si trovano sti protagonisti, e anche molti, molti dilemmi, molti dubbi che avevo nel primo film, quello in cui c'era la tizia con gli spiriti che poi si suicidava nel finale, non sono stati chiariti dopo cinque film, quindi non so bene quando avremo un quadro un po' più completo di tutta, di tutta la situazione. La scena appena incontra il cattivo ci fanno vedere il flashback sull'incidente che ha messo Shiki in coma, e si vede lei che combatte contro di lui, rivediamola questa cosa, me la sono, me la sono persa. Ah, è vero, hanno pure parlato di questo discorso che avevano combattuto. Ah, sì, 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 riuscirai a uccidere? Ottimo, infatti mi sono chiesto quando ho visto questa scena, ma quando cazzo è successo sta cosa? Allora, per ora il voto più alto è stato un 8, che era il terzo film, ma comunque quello che mi aveva colpito di più era un po' il primo. Io vi direi che a questo un voto in più. No, io pensavo 9 meno, tranquillamente 9 meno. Allora, stavo riflettendo se dare più di 9, assolutamente no. Io mi sarei fermato massimo a 9 per questo film. Però, sì, secondo me 9 meno va bene. 8 e mezzo? No, 8 e mezzo è basso, raga, 8 e mezzo è basso. Io vi direi 9 meno, almeno 9 meno. E io ero indeciso tra 9 meno e 9. 8 e mezzo ci ho pensato, ma no, ho preferito molto di più questo rispetto al terzo film. Cioè, il terzo film è carino, ma no, molto meglio il quinto. Quindi sì, 9 meno, 9 meno almeno. Però più di 9 non glielo darei. Posso dirvi questo? Più di 9, mentre pure lo vedevo verso il finale, ho detto, ma che voto gli posso dare? Non gli darei mai più di 9 a sto film. Considerando che molte cose non sono state spiegate, mi ha lasciato un po' una sensazione di mancanza, di robe non risolte che mi ha dato fastidio. Il vostro voto, quindi, è 8,94. Io dovrei decidere se dare o un 9 o un 9 meno. Poi se deciderò meglio quando avrò visto gli altri film, tipo il 7. Il 7 sarebbe interessante capire che voto dargli. Per ora diamogli 9, però mi riservo la possibilità di dare anche meno di 9 in futuro. 9 meno, magari. Però non lo so, ragazzi, cioè io di base non sono un amante di quelle cose che per capirle devi, per capirle bene ti è richiesto vedere altre cose che non sono l'opera principale. Cioè, nel senso, arrivato al quinto film, non capire vari concetti, varie robe, perché sono spiegate in un'altra serie, che dovrebbe essere questa qua, che dici tu, maoiu questa qua, un po' mi infastidisce, un po' è fastidioso. Cioè, come cazzo ne so, ti vedi che ne so, ti vedi il Signore degli Anelli, ma per capire alcune cose del Signore degli Anelli ti devi vedere anche, non l'Hobbit, perché l'Hobbit è collegato, una cosa che non c'entra niente, devi vedere Narnia, così, perché due fantasy, questa cosa che un po' fastidia, mi piacerebbe che i concetti base, le robe, venissero spiegate decentemente all'interno, per bene, all'interno della singola serie, poi che siano collegate va benissimo, cioè che ci siano robe in più che puoi scoprire se vedi Fate o se vedi questo Mao, Mao Yohu va benissimo, però almeno le cose principali tipo che cazzo è sto vortice o altre robe spero che verranno dette in questi otto film di Karanokyo Kai, se cerchi Nasu vs Google c'è una foto che ti fa vedere tutti i collegamenti dei personaggi di tutte le serie, ehi, uhlala, 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 allora, ci sta Melty Blood, Fate Stay Night, guarda qui, che roba, Fate Hollow Ataraxia, Tsukime, Shinje, eh, Tsukime, e dove sta? Ah, Karanokyo Kai, eccolo qui, Karanokyo Kai, sta al centro, bellissimo, ma cosa cos'è sto aborto? Ma è stupendo, ad esempio, se vogliamo andare a vedere che cazzo ne so, Kodomine Kirei, Kodomine Kirei è il servant, cioè è il master di Lancer e di Gilgamesh, ma è anche il nemico di Kiritsugu e è anche il figlio di, se seguiamo la linea, ta 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 ta, di Karen Hortensia, vabbè, insomma, no, scusa, è il padre di Karen, vabbè, è il padre di una tizia, ma in effetti non avevano citato la figlia di Kodomine in qualche roba? Avevano citato la figlia nell'ultimo film di Fate? Avevano citato la figlia di Kodomine? Sì, la moglie si vede pure mentre si ammazza, sì, 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 ma in realtà secondo me ci sta, ci sta questo collegamento qua, Saber, perché questo si chiama, non si chiama Saber, si chiama Saber, Saber, che ti salva, e invece Fate Strange Fake, vabbè, immagino che tipo Fate Apocrypha, Fate Strange Fake, Fate Extra Last and Core, non facciano parte della lore principale di tutti questi collegamenti tra le linee temporali. Oh, questo che cazzo è? Ci sta Neko Ark? Ah, parodia Came from the Greatest Cat Garden. Parodia di Arquaid Brun Testut.